Ecco il nuovo gruppo di studenti in punizione. Spencer, Bethany, Fridge, Marta. Sapete di essere tutti qui per un motivo. È arrivato il momento di riflettere su chi siete. E su chi volete essere. Fortunatamente, avrete tanto tempo per capirlo mentre ripulite lo scantinato. Che schifo! Oh, Spencer, che cos'è? Jumanji. Un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar. Che sono quelli? Avatar, in pratica, scegli un personaggio e nel gioco sei quella persona. Quale prendo? Penso che uno vuole l'altro. Giochiamo? Ma che succede? Che fa con le mani? Porca porca! È morto. Dov'è il resto di me? Oddio, Fridge. Sì, sono Fridge. E tu chi sei? Sono io, Spencer. E quella chi è? Marta. Mi sa che siamo stati risucchiati nel gioco e siamo diventati gli avatar che abbiamo scelto. Questo vuol dire che sono... Bethany? Oh, Bethany! Bethany! No! Sono un uomo di mezza età in sovrappeso. Ah, benvenuti a Jumanji! Presto scappiamo! Perché sono così lento? Ti avverto. Penso di essere uno che è meno forte. Wow! Gli riesce così bene. Cavolo, questo sì che è un uomo. Non piangere, non piangere. Non piangere, andrà tutto bene. Va bene, basta. Non gli resisto. Ciao! 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 I'm going to break you down!